Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi vi saluto e vi parlo dalla nostra nuova sede Toyota che abbiamo appena inaugurato, sempre a Brescia, sempre in via breve, tra BMW e Mini Dinamica, il Continente e il McDonald's. Siamo sempre qui con il nostro nuovo showroom e il nostro nuovo centro assistenza. Abbiamo ancora qualche piccolo dettaglio da sistemare, ma la cosa più importante, le macchine. Ecco qui la nostra fantastica corolla, ci sono. Approfitteremo della settimana di Ferragosto per sistemare questi ultimi dettagli ed essere pronti per lunedì 19 agosto con la riapertura delle nostre attività. Vi aspettiamo.